C'è una palla davvero incontenibile allo stadio Rick Tabarly! Si respira un'atmosfera degna di un Milan Barsa! Scherzo ovviamente perché sono l'unico spettatore più emolente! Visto che è stato dietro dall'ingresso ai tifosi, avevo un razzo tirato in capo! Sia lì si parlando con gli avversari! Eh! Marandella, ma dove stai andando? Ma che fa Marandella? No, 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 no! Corri Marandella! Corri Marandella! Vado, vado, l'ho capito! Brutto cretino, quando torniamo negli sbagliatoi ti spacco la faccia! Cazzo! Marandella! Non ti vuole avere più da quella cazzo, riporta! Torna al tuo posto, brutto scimione!